Devo farcela, non possono prendermi. Qui sergente Miller, sono in grove pericolo, mi trovo sulla costa est dell'isola, richiedo estrazione immediata, passo, qui sergente Miller, ho degli inseguitori alle spalle, il mio compagno è stato catturato, richiedo estrazione immediata, passo. Qui sergente Miller, sono arrivato sul punto di estrazione concordato, dove cavolo siete? Gli inseguitori mi hanno quasi raggiunto. Grazie a tutti.